Era già rinchiuso nel carcere Casetti di Rimini e la polizia gli ha notificato un'ordinanza di espulsione dall'Italia. Si tratta di un 37enne marocchino ritenuto un soggetto a rischio radicalizzazione islamica. Il nordafricano, il cui comportamento era stato segnalato dagli agenti, dalla polizia peritenziaria, è stato prelevato dalla struttura e portato al CIE di Torino per il suo allontanamento dal paese. L'uomo era clandestino in Italia da almeno 22 anni, di cui 10 trascorsi in diverse carceri del paese. Il suo ultimo arresto risale a 2011, ma in passato aveva collezionato una lunga serie di reati che andavano dal furto, minacce, resistenza pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti. Detenuto nel carcere milanese di San Vittore e poi a Parma, dallo scorso luglio, era prodato ai Casetti con la raccomandazione di controllarlo proprio per le sue simpatie verso il sedicente Stato islamico. Da luglio ad oggi il 37enne aveva anche collezionato una decina di denunce a piedi libero per il suo comportamento dietro le sbarre e tra i vari atti di autolesionismo che aveva compiuto anche il tentativo di asportarsi un testicolo. L'uomo avrebbe finito di scontare la sua pena il prossimo aprile, ma è stato liberato domenica grazie ad un provvedimento di scarcerazione anticipata e messo dal giudice. Dopo la scarcerazione è stato accompagnato in questura per accertamento, al termine dei quali il questore di Rimini ha formulato una proposta di espulsione dal territorio nazionale per motivi di pericolosità sociale, proposta che è stata accolta dal prefetto che ha ordinato l'allontanamento dal territorio. Durante il viaggio a Torino il nordafricano si è morso a sangue le braccia in segno di protesta e è stato medicato presso l'ospedale di Novara e poi portato al CIE, dove rimarrà fino all'allontanamento dal territorio nazionale.